Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio fare una cosa speciale Voglio sinceramente fare una cosa che mi distruggerà completamente Riccobare che questi 371 iscritti diventano zero Voglio visionare i miei vecchi video su YouTube Roba di tipo 6 anni fa Io che ero un ragazzino cringe Di 12 anni Quindi fare una cosa molto interessante Andare su video Guarda se i video belli Sì 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 Guarda se questi sarei felicissimo Ordina per Minore 100 Oddio mio Che lato brutto da cancellare Vabbè il primo video si deve vedere per forza Dai che figo Ecco appunto parlando di gay Ma che cazzo Non fare questi passi da Dai benvenuti Ma che cazzo In questo nuovo video ce l'ho fa VJ Sinceramente Ma onestamente Forza vj Non farei mai più video Perché tanto ormai Tanto Ma c'ho i soldi Ma sarai felicissimo Purtroppo questi non ce li ho Io la voglio ancora Ce l'ho Devo continuare Perché comunque mi piace Altrimenti Vado in azienda E domani Sembra di riprendere Un bimbo dicappato Vabbè A caso E io che lido Ho qui come la testa Di un cazzo che sono Dopo il pessimo Inizio È divertente in realtà Un cugino Un cugino La faccia Mi stai distrando Lo direi che questo mio cugino Apre un canale Sì E mi chiamo Perché rido come un coglione Perché rido come un deficiente Madonna Madonna mia C'è 46 secondi E mi rovinò tutto Già Vabbè Mi ha aperto il canale Quindi Su nome Oh mio dio David In questo modo Mi chiamo oggi Cioè Del tipo Io mi faccio un'ottimizzazione Del video Perché Si vede come avete Ottimizzato Mi faccio finire Di attendo Ma che cosa brutta Questo nome Questo scemo Madonna Ecitazione Zio Madonna Madonna Non voglio manco guardare Ecco Aspettavo proprio queste cose Ed ecco perché non ho parlato Comunque Salve Tutti i ragazzi sono Paystar E sono Suo cugino Se Mi Oh mio dio 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 Perché io devo mettere queste cose Perché devo piangere Ecco Mi devo sopportare questo Oh mio dio Io ho avrilo Esatto Wow Mi hai tolto E la giura Bocca Bravo 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 Sinuffe Ti prego Non lo fare mai più E qui sei il secondo Ma che cazzo Fa la sua media Superiore Cringe Cringe Dovei cancellarlo Ma non lo farò mai E abbiamo acceso il suo telefono Come faccio A sopportarlo Cioè no Ditemelo voi Come faccio Non lo so come fa Come faccio Ma che cazzo è Non si vede È tutto buio Ma siete un cazzo Allora ragazzi 50 like E lo menerò a sangue Io prima Tut felice Che ho 50 like Che non lo manca adesso Però poi appena sento menerò a sangue No 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 Anche 0 like Anche 100.000 dislike Cioè proprio di niente Ok Tanto lo sai Ci schifichi Quindi Eh sì ma le Eh sì ma le views Sono molti Eh effettivamente le views Ho messo la 90.000 Minchia ho fatto un upgrade Cioè guardate Ma non ha proprio La faccia di uno Da prendere a schiaffo Eh beh 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 Ha ragione Signore Il boom boom Azz Guardatelo Fiii fai fichi Grazie 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 E uscendo in questo modo Concludiamo questa presentazione Del mio canale Salve a tutti ragazzi Sono fai star E sono con mio cugino Favidix Che sta facendo Completamente Cosa Ok Ma che cazzo Ciao a tutti ragazzi Ma che cazzo Ho visto Ma che cazzo Ho visto Cioè veramente Ho visto le cose Peggiori Della mia storia Good Bravo Mamma ma se so bravo così Non si immaginare Il resto Fotos With Michael Non so perché c'ho la barra Però Lo rimettiamo C'è lungazzo Ma che cazzo E tanto che 2DS Che io ho ancora mai rotto Ma che cazzo È so cringe Qualcuno ce l'ha sta roba Scusa Qualcuno l'ha mai usata Sta roba Oltre a me Non voglio continuare La visione Per esempio Favolo schifo Eterlo Speciale 50 iscritti E' Grazie ragazzi Pensate E io sono Favoli Favoli parlare Prima perché Sennò poi Non si capisce Pignata E se ne parliamo Insieme Alla partire Sto parlando Allora 11 secondi Che sinceramente Fanno capito Questi 2 ragazzi Non hanno un cazzo Da fare E vogliono Divertirsi Perché alla fine Questo che si fa Con youtube E almeno Mi diverto Anche lui Comunque si diverte Lo vedo Sempre su twitch Su youtube Aiutatemi ragazzi Comunque Allora Siamo qui Per la seconda challenge La prima è Come io ho scritto Ma io ho scritto il male Ovvero la Dischia e il gusto Challenge Che praticamente Io ho vinto Adesso Non possiamo parlare A spezzettoni Perché sennò Puoi fare un po' Confusione Comunque Siamo qui per la seconda challenge Ovvero la Whisper Challenge Ovvero che lui dovrà Indossare delle cuffie E mentre non sente niente Allora io devo Insomma Parlargli Che lui non capirà niente Sì ho Ho spiegato da schifo Allora Insomma In questa challenge Lui Lui Che Che Ma no Mi ingra Hanno ridato E io parlo E lui Dovrà capire Quello che io Dito medio Siamo qui ragazzi E ora siamo pronti Per questa challenge Allora Io Mo Voglio chiedere una cosa A tutti Ma Una Whisper Challenge Fatta Adesso Che siamo Grandi Adulti Più faccianti Di covid Lo rifacciamo Lo rifacciamo Questo Perché tanto Sinceramente Non ci vedo Nulla di male Si può rifare Proprio Easy peasy Ci si rivede Proprio facile Secondo me Si potrebbe fare Un'altra Challenge Con Face Quindi Se lo volete Signor Io vi dico Easy peasy Taggatelo Ovunque Rompetevi le palle Con questo video E ditegli Rifai la Whisper Challenge Rifalla Rifalla Bitch Allora 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 Aspetta Aspetta L'è Cominciato Crise Lo so Confesso Stavo barando La voglia Il volume Era spento E raccorda il microfono Allora Io 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 Sono Sei No Sono Sei Festa Impetti Comunque Quanti pixel Falser Tu Ripeti Tu Io Io Tu Si Si Te 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 Si Tu 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 E di buon questo Eh bravo 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 Sei 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 Solo Che Allora Io mi dissocio Io rido pure Cazzo Che hai detto Sei Sei Fesso Ok Avevo capito Già Fesso Ok Avevo già capito Facevo finta Fesso Esatto Brabà Tu Sei Fesso Bravo Adesso anche se giù sono andato inutile vita Allora On Affig On Affingere Poi vedete che io ce l'ho On Affingere Era il microfono Oppure 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 Altrimenti Eh O O O Melen 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 Belen 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 Perché hai le tette Ma che cosa Signore Da qua si vede Sì ma siamo su un Su un video più 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 di shot Ehhhh 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 Siamo su più di 18 Non si immagina E sugli altri siti che cazzo è Più 60 Ok Che brutta cosa che hai detto Buttissima Però Ehhhh Ehhhh Andiamo avanti Perché Non lo so se è bevuto Poi Sono a semi ancora Per ora Sono a semi Io E Io Io Stai Sto Stai Sto Stai Sto Delirando Delirando Sclerando Delirando Si Delirando Si Ma stavano così Oh 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 Che è successo No signore Che è sta storia No Che è sta domanda brutta Si PAAA Non so proprio metti no Come sto ridendo Che sto di cazzo che sono Ah Hai visto No Io che puoi rido Come Tu hai il tuo speciale 50 iscritti Uvo No Oh Sgamato La fine Più Bella Dei miei video Il leggendario Uvo Sgamato Uvo Sgamato No Sgamato Ragazzi Questa E Letteralmente Il finale Più bello Di video Che abbia mai messo Quindi ragazzi Che Dio Questi erano alcuni dei miei video Quindi Noi ci vediamo alla prossima E se ti piace ragazzi E Tutti 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 Ultima Tutti Grazie a tutti.